Buongiorno a tutti, siamo l'associazione Balneator Vivere il Mare APS, perché questo nome così complesso? Perché l'associazione Balneator di Tortoreto si è trasformata. Si è trasformata in un'associazione di promozione sociale e, per la precisione, per quello che riguarda la protezione della spiaggia, del mare, della natura. Abbiamo capito che il futuro sarà solo e unicamente dedicato al rispetto della natura. Questa è la nostra prerogativa, questo è il nostro obiettivo. Non vogliamo più polemiche, vogliamo solo lavorare per il bene del turismo e della società. Grazie.